Riaperto il valico di Erez, nel nord della striscia di Gaza, per la prima volta dal 7 ottobre 2023. La decisione, annunciata lo scorso mese dall'autorità israeliane, era stata disposta in seguito alle pressioni degli Stati Uniti e dalle agenzie umanitarie internazionali per permettere l'ingresso di camion carichi di aiuti nella striscia. Questi sono i primi tratti che vengono qui oggi, dal Jordan, e ci saranno questa crossa, spero di ogni giorno. In occasione della sua settima visita nell'area dopo il 7 ottobre, il segretario di Stato USA, Anthony Blinken, ha salutato l'apertura del valico come un posto importante per fare arrivare gli aiuti direttamente nel nord di Gaza, affermando che si tratta di un progresso reale e importante. Il primo maggio l'esercito israeliano ha affermato che circa 30 camion che trasportavano cibo e forniture mediche dalla Giordania sono entrati nel nord della striscia attraverso il valico di Erez. I mezzi sono stati sottopossi ad un'attenta spezione di sicurezza prima di entrare a Gaza, ha riferito l'esercito israeliano. Oltre un milione di persone nella striscia vivono attualmente in una situazione di fame acuta.